La tromba è uno strumento molto fisico e quindi molto vicino al canto, alla voce, quindi quando suono in realtà è come che stia in qualche modo utilizzando la voce, anzi canto dentro lo strumento è un mezzo inanimato, bellissimo, ma se è così diventa solamente un bello oggetto, dopodiché bisogna dargli vita. Lo che volevamo dimostrare con questi cinque lavori è il fatto che quando un gruppo esiste da tanti anni, quando un gruppo ha una cifra stilistica così precisa, in qualsiasi caso può suonare tutta la musica che vuole, che sia jazz, che sia pop, che sia rock, che sia musica popolare, tutta questa musica comunque assume un significato, assume una personalità che è quella del gruppo che suona. musica musica il silenzio è quel vuoto apparente che dà senso alle note. se uno fa una bella nota ha bisogno di un momento di silenzio perché questa nota diventi ancora più bella, se uno fa una bella nota ma poi non rispecchia il silenzio quella nota rischia di perdersi nel niente, per cui il suono è per me l'essenza della musica, se non c'è suono e non c'è silenzio non c'è musica, il silenzio è musica, è una musica straordinaria. musica 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 musica